Il presepe monumentale di Castelli, alcuni pezzi di questa splendida opera d'arte raggiungono Teramo e si sistemano all'ipogeo. Una bella mostra che naturalmente tutti vorranno ammirare. Allora, noi speriamo che sia un'occasione per condividere un'opera d'arte di cui è fiera Castelli ed è fiero soprattutto il nostro liceo artistico che è l'artefice dell'opera ed è anche il custode. L'opera è in esposizione permanente nella nostra scuola peraltro visitabile con grande sforzo e sacrificio di tutto il personale della scuola anche nelle giornate festive tutto l'anno. Quindi l'ammirare i 54 pezzi tutti quanti insieme in questa esposizione che è a scuola, vi assicuro, è un'esperienza che farà contenti tanti visitatori. Quindi l'invito e l'intento della mostra è quello di far pregustare con questa esposizione parziale quello che poi può essere completato venendo a Castelli. Quali sono le origini di questo presepe monumentale? Tra in dieci anni, tra il 65 e il 75, il direttore dell'allora scuola d'arte, Serafino Mattucci volle un progetto di lungo respiro, proprio un programma, non solo per un anno scolastico ma appunto poi si è visto per un progetto lungo che è durato dieci anni volle la realizzazione di questo presepe. Trovò grandissimi docenti, tra i quali spiccano naturalmente il nome di Gianfranco Trucchia e per gli anni successivi di Roberto Bentini. Ma in realtà all'opera che possiamo veramente definire corale, collettiva, parteciparono innanzitutto gli allievi che fecero quindi un'esperienza viva di progettazione e realizzazione ma direi anche il personale tecnico, altri docenti, quindi è un'opera collettiva della scuola e dà proprio il segnale di come si sia sempre, per missione di questo istituto, lavorato sull'innovazione. È veramente un'opera singolare, straordinaria, che noi speriamo vengano tutti a conoscere meglio a Castelli. Inquadrando con il cellulare il QR code che si trova nel pannello principale arrivando alla mostra si potrà vedere e soprattutto ascoltare un video con immagini del presepe che è raccontato da Donatella di Pietrantonio che è un'altra eccellenza possiamo dire del nostro Abruzzo e autrice del romanzo L'Arminuta e racconta Castelli e il presepe. Altro video importante è stato realizzato dall'Università di Teramo, dal Dams con la musica peraltro di Paolo Di Sabatino, quindi altra eccellenza del nostro territorio e un'intervista a un ex allievo che ha partecipato alla realizzazione dell'opera che è un artista importante, Fausto Ceng e anche questo video può essere dai visitatori apprezzato perché racconta i pezzi che qui non ci sono.